Per me sicuramente è un grande onore innanzitutto poter continuare a vestire questa maglia perché giocare a casa propria è un lusso, è un sogno penso di molti giocatori e quindi poter continuare a farlo nel mio territorio mi rende ancora più orgoglioso e felice per questo percorso che continuerà spero a lungo. Ma guarda io il mio sogno fin da quando sono arrivato nelle giovanili qua era quello di arrivare in prima squadra, poi con il duro lavoro, l'impegno e il sacrificio sono riuscito a coronare questo sogno e spero che altri giovani possano avere questo obiettivo in mente e gli auguro tutto il meglio per riuscire ad arrivare. Grazie